Onorevole Pittella, oggi a Montecitorio un incontro con la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Sì, innanzitutto per una prima valutazione dell'accordo con la Turchia abbiamo entrambi molte riserve. L'accordo è utile ma sicuramente non è risolutivo. Per dare una risposta risolutiva al tema dei rifugiati bisogna attuare la ricollocazione in tutti i paesi europei e bisogna poi superare le cause che determinano questo flusso enorme verso l'Europa.